Pensionati e disoccupati, chi ha un po' di tempo da dedicarci è lì davanti al televisore ed anche chi non si può permettere certi livelli è giusto che li veda. Poi è difficile accontentare tutti, se parliamo dei due dipinti 50, 70 a 300 Euro può essere ritenuta una caduta di classe, è un orientamento verso chi ha comunque diritto a vestire la propria casa senza doversi separare da cifre che non siano accessibili, poi quando parleremo di Carla Cardi è chiaro che pur aumentando il coefficiente di interesse sotto il profilo storico diminuisce il coefficiente di possibilità di acquisizione, è ovvio, ma su Vincenzo Censotti c'è tutto, c'è la possibilità di acquisirli a buon prezzo senza che questo infici la estrema qualità delle opere, sono due opere squisite, vediamolo ancora un po', perché poi le stacco e non le presento più finché non mi chiederà il pubblico. Olli su tavola di Vincenzo Censotti. Non crediate siano queste le quotazioni, queste sono le nostre richieste, devo soltanto ricordarvi che le nostre richieste sono comunque omnicomprensive, da ovunque voi chiamiate, questa mi fa impazzire, dico la verità, ma anche l'altra, ma dovessi orientarmi a scegliere una delle due, anch'io non saprei quale scegliere, ma è una questione puramente soggettiva, guarda come dipingeva a questo uomo.